Architettura di Kubernetes. Ciao, io sono Michele e in questo video vediamo l'architettura di base di un cluster Kubernetes. Quali sono le componenti, che responsabilità hanno e come dialogano tra di loro. E tu hai esperienza con un cluster Kubernetes? Se sì, fammelo sapere nei commenti. Sono curioso di sapere quali sono i progetti ai cui hai lavorato. Kubernetes è diventato lo standard di riferimento per quanto riguarda l'orchestrazione dei container nato dal progetto interno di Google Borg, poi regalato alla comunità in modalità open source con il progetto Kubernetes e ha avuto parte del suo successo e merito grazie anche all'adozione e la diffusione di quella che è la tecnologia dei container tramite Docker. Per poter lavorare con un cluster Kubernetes in maniera ottimale è bene sapere quali sono i suoi componenti e come dialogano tra di loro e le responsabilità. Per cui vediamo subito qualche diagramma così ci facciamo un'idea. Un cluster Kubernetes è un insieme di nodi, cioè di virtual machine o di server fisici che messi insieme collaborano appunto per l'erogazione di tutti i servizi del cluster stesso. All'interno del cluster abbiamo due tipi di nodi e li possiamo categorizzare così. Abbiamo i nodi master che servono per contenere tutte le funzionalità per il funzionamento del cluster stesso e tutti le componenti principali. Dopo vediamo quali sono. E poi abbiamo i worker node, cioè i nodi. Sono quei nodi che mettono a disposizione le loro risorse, quindi CPU, RAM, disco, risorse di rete, GPU eccetera, per i nostri carichi applicativi, per le nostre applicazioni che andiamo a fare girare all'interno del cluster. L'insieme delle funzionalità che riscedono all'interno di nodi master è il cosiddetto control plane, quindi il piano di controllo dove abbiamo tutte le funzionalità per gestire e amministrare il cluster stesso e il workload che ci vogliamo far partire dentro. Prendendo dalla documentazione ufficiale questo schema vediamo l'architettura di un cluster Kubernetes in termini dei suoi componenti e li commentiamo uno a uno. Il control plane è appunto quel raggruppamento logico di funzionalità che rappresenta l'amministrazione del cluster stesso. Abbiamo per prima cosa il controller manager che è sostanzialmente l'implementazione di un grosso loop infinito che controlla lo stato del cluster e verifica che la sua configurazione e la configurazione dei nostri workload sia quella desiderata, cioè quello che l'amministratore del cluster ha configurato e lo fa utilizzando le API, tra poco vediamo questo componente, quindi si assicura che lo stato del cluster sia come noi lo vogliamo e nel caso non lo sia prende decisioni per implementare azioni correttive affinché lo stato sia quello voluto. Abbiamo poi qui l'API, l'abbiamo appena citato, l'API server. L'API server è quel componente che mette a disposizione un'interfaccia esterna per poter, ma anche interna perché lo usano i suoi componenti interni stessi, per poter amministrare il cluster, dargli i comandi, ottenere informazioni e in generale il punto di ingresso con cui noi abbiamo a che fare come amministratore del cluster o developer che vogliono installare le proprie applicazioni all'interno del kubernetes. Tipicamente ci si interagisce qui con la riga di comando kubectl. A fianco alle API abbiamo etcd, che è un persistent store, cioè uno storage, è un database chiave valore distribuito e altamente affidabile, che è dove vengono salvate le configurazioni del cluster, quindi tutto lo stato viene salvato qui. Quindi quando noi diamo un comando attraverso le API e viene eseguito con successo, il risultato e lo stato vengono salvati all'interno di etcd, che viene ovviamente anche consultato quando noi facciamo comandi tramite le API per recuperare informazioni del cluster. Infine abbiamo sempre sul control plane abbiamo lo scheduler, componente importantissimo che è quello che si occupa di schedulare, quindi di eseguire, di mandare in esecuzione all'interno dei nodi worker i pod che contengono le applicazioni container che vogliamo eseguire, perché all'interno di un cluster Kubernetes noi non abbiamo il controllo dei singoli container, o meglio non mandiamo in esecuzione i container, ma noi scheduliamo pod che al loro interno eseguono i container. Quindi lo scheduler ha questo compito importante di trovare lo spazio per fare eseguire i pod che hanno bisogno di essere eseguiti rispettando i vincoli impostati dagli amministratori dei cluster e developer in termini di CPU richiesta garantita, particolari caratteristiche per esempio di GPU, vincoli per poter andare su un nodo e non su altri e così via. Infine all'interno del control plane abbiamo il cloud control manager che è un componente opzionale che troviamo nelle offerte tipo Azure Kubernetes Service o all'interno dei cluster gestiti da Amazon o Google, ok, per gestire e dialogare con la piattaforma cloud stessa per gestire il cluster. Ad esempio sarà tramite il cloud control manager che quando andiamo ad aggiungere un nodo sarà questo componente a creare una nuova virtual machine nel nostro cloud provider. Passando invece alle componenti che troviamo all'interno dei nodi worker ne abbiamo decisamente meno però comunque importanti. Abbiamo il kubelet che è un agent, quindi un demone che gira all'interno dei singoli nodi, ce ne ho uno per ogni nodo e si occupa di svariate tematiche quali la comunicazione con l'API server, l'implementazione dei comandi, si assicura dello stato di salute dei pod che girano all'interno del nodo e verifica che i pod stiano in esecuzione come da specifiche. Infine abbiamo il kproxy che si occupa di tutta una serie di problematiche, di tematiche di rete per quanto riguarda l'esposizione delle porte, l'instradamento ed eventuali regole che vengono impostate a livello di networking nel cluster e quindi di fondamentale importanza nell'implementazione di tutte le segmentazioni di rete e configurazioni affini che vengono fatte all'interno di un cluster. Infine qui non è disegnato ma io ce lo metto perché è di estrema importanza nonché basilare, in tutti i nodi abbiamo il container runtime, container runtime, quindi quel sottostrato, quello strato software che permette ai nostri applicazioni in formato container di essere eseguite. Ora per dare un senso a tutto quanto facciamo un esempio quando noi developer o amministratore del cluster facciamo finta di essere dei dev che hanno bisogno di rilasciare la propria applicazione all'interno del cluster Kubernetes. Allora quello che noi facciamo è predisporre un file manifest in formato tipicamente YAML con dentro tutta la sua sintassi per descrivere in formato DSC, desired state configuration, ciò che noi vogliamo all'interno del cluster, cioè noi diamo una configurazione di come vogliamo che sia lo stato finale del cluster una volta che questo file è stato interpretato. Noi non diciamo come fare questa cosa, noi diciamo solo che cosa vogliamo, un po' come in istruzione SQL dove noi diamo una select from e dei parametri, ok, ma non stiamo a specificare gli algoritmi o le modalità in linguaggio imperativo che cosa vogliamo, come vogliamo ottenere i dati dal motore relazionale. Noi diciamo solo che cosa vogliamo e sarà il motore del database a fare le istruzioni migliori, gli algoritmi migliori per rispondere alla nostra domanda. Allo stesso modo con un cluster Kubernetes lavoriamo in modalità desired state configuration. Noi diamo la riga di comando kubectl, apply, meno f e gli diamo il nostro file YAML. Questo qui viene mangiato dall'API server, con questa riga di comando noi interagiamo con l'API server, che valida il comando. Diciamo che noi stiamo schedulando un, stiamo chiedendo la schedulazione di un'applicazione e l'abbiamo chiesta in triplice istanza, vogliamo tre pod della nostra applicazione, tre per. Quindi l'API server prende questo comando, persiste, ne controlla la validità, persiste l'informazione all'interno delle tcd e poi mette in coda, in forma allo scheduler, che devono essere schedulati tre pod nei nodi disponibili che rispondono alle caratteristiche. Quindi quando lo scheduler trova posto, prende e mette un nodo qui, magari, un altro nodo qui, poi potrebbe essere che la RAM è finita o la CPU è finita e arriviamo di qua. Ecco, questa è l'interazione e cosa succede un po' all'interno di un cluster quando diamo un comando. Ovviamente tutta questa schedulazione e tutta questa sincronizzazione avviene attraverso il kubelet che fa da cordone ombelicale per questo genere di operazioni, appunto si assicura che i pod sia in esecuzione e ne comunica lo stato di salute. Affinché il nostro deployment dei nostri tre pod abbia un significato, un'utilità vera e propria, i nostri pod devono essere contattabili e raggiungibili sia dall'interno del cluster sia dall'esterno nel caso fosse una cosa voluta. Esempio molto banale potrebbe essere una web application che noi esponiamo all'esterno o qualcosa di più sofisticato come un API gateway. Allora, nel caso per esempio fosse una banale web application, questo qui dovrebbe essere esposto all'esterno con quello che è un load balancer che mi raggruppa in maniera, per dirla rapidamente, comunica con i tre pod che compongono, che tengono in piedi la mia applicazione, il mio servizio e che ha un endpoint verso l'esterno dove arrivano il traffico dei miei utenti, smartphone, tablet e così via, e pc. Ecco, tutta questa problematica di networking sia di visibilità interno che all'esterno del cluster si fa con quelli che sono i services che potrebbe essere tranquillamente l'argomento per un altro video. Bene, per oggi con Kubernetes ci fermiamo qui. Se questo video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa mi raccomando metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sull'arrivo di nuovi contenuti e al prossimo video. Ciao!